Di Perri ma quando è che raggiungeremo l'immunità di gregge? Quando è in generale come definizione e quando secondo lei più o meno in Piemonte, in Italia si potrà pensare di raggiungerla? Allora l'immunità di gregge è un concetto effettivamente piuttosto ambizioso da questo punto di vista. Noi lo conosciamo per infezioni del tipo il morbillo o la stessa polio se vogliamo, cioè sono però infezioni così come il relativo vaccino che lasciano una immunità protettiva permanente, ovvero se io oggi ho vaccinato il 20% della popolazione contro una di queste due infezioni questi rimarranno protetti per tutto il resto della loro vita. In questo caso è un discorso un po' più diverso, un po' più approssimativo per quanto riguarda SARS-CoV-2 e la malattia Covid-19. Perché? Perché l'immunità non è permanente e non è del tutto completa come sappiamo, non è un'immunità sterilizzante, è un'immunità che riduce di molto la probabilità di ammalarsi ma però non impedisce al virus comunque di circolare, restringe molto la circolazione ma non del tutto. Quindi cosa vuol dire? Che se per esempio noi abbiamo una campagna di vaccinazione molto lenta, nel momento in cui andiamo a vaccinare gli ultimi individui ci sarà già da chiedersi se dobbiamo fare un richiamo ai primi che sono stati vaccinati, perché purtroppo il rendimento del vaccino è un rendimento che sappiamo essere elevato nei primi mesi ma abbiamo l'incognita sulla durata della protezione. Io credo che più che immunità di gregge, un nostro ragionevole obiettivo è quello di mettere in sicurezza tutti i soggetti al di sopra dei 60 anni che sono quelli che popolano purtroppo i nostri ospedali. Una volta che noi avremo messo in sicurezza queste fasce d'età gli ospedali si svuoteranno, la sanità riprende il suo esercizio convenzionale a più voci e a quel punto se il nipotino si infetterà e andrà a trovare il nonno, il nonno magari è già vaccinato, per cui non riusciamo a chiudere quello che era quel circuito di amplificazione epidemica dell'infezione e quindi riusciamo ad avere una situazione in cui l'ulteriore successiva progressione delle vaccinazioni porterà a una situazione progressivamente migliore. Però ricordiamoci questa è una malattia dicotomica, fa molto poco fino all'età di 50-60 anni e fa molto di più in età successive, quindi il nostro primo obiettivo è di mettere in sicurezza chi sappiamo che è candidato a malarsi.